Nuovo blitz contro la Camorra. La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito 20 arresti nei confronti di presunti appartenenti al clan Cesarano, di Castellammare e di Stabia. Tra i reati contestati agli indagati ci sono associazioni per delinquere di stampo camorristico, estorsione e traffico di sostanze stupefacenti. È il secondo colpo inflitto al clan Cesarano dopo l'operazione dello scorso ottobre, quando i carabinieri avevano effettuato sei arresti e sequestrato beni per oltre 7 milioni di euro, nell'ambito di un'inchiesta sul monopolio delle onoranze funebri. Si fingevano affiliati dell'Andrangheta per chiedere il pizza ad un albergatore. È successo a Torino, dove i carabinieri hanno arrestato una persona con l'accusa di estorsione. Secondo le ricostruzioni, un ex socio della vittima pretendeva 50 mila euro come rimborso per un debito che in realtà l'albergatore non aveva mai contratto. Per ottenere il denaro si fingeva un appartenente all'Andrangheta e non esitava a minacciare l'imprenditore. Le forze dell'ordine hanno anche fermato altre quattro persone, accusate di concorso tra loro. La Guardia di Finanza di Lamezia Terme ha arrestato un uomo di 48 anni che prestava denaro con interessi al 121,6%. L'indagato, che risponde al nome di Carmelo Furci, è accusato di usura e distorsione, reati per cui era già stato fermato una prima volta nel 1997. Inoltre è sospettato di associazione mafiosa perché è ritenuto affiliato al clan greco. Secondo le indagini, Furci avrebbe rogato due prestiti, uno da 10.000 euro con interessi mensili di 1.000 euro e un altro di 90.000, a cui venivano corrisposti interessi mensili di 9.000 euro. Le indagini delle Fiamme gialle hanno portato anche al sequestro di beni per 65.000 euro. Fra gli obiettivi della manovra finanziaria varata dal governo c'è anche la lotta all'utilizzo del contante in favore dei pagamenti elettronici, uno strumento che inoltre mira ad abbattere l'evasione fiscale. Ne è convinta anche Banca Italia che attraverso il proprio vice direttore generale Luigi Federico Signorini ha spiegato che è plausibile che nel medio periodo esso possa contribuire a ridurre la propensione ad evadere. Nel corso di un'audizione sulla legge di bilancio a Palazzo Madama, Signorini ha sottolineato che l'incentivo funzionerà bene se si riuscirà ad attuarlo in modo semplice e chiaro.